ciao mi avete preso mentre sto meditando perché oggi oltre a essere la festa della musica è la giornata internazionale dello yoga voluta dalle nazioni unite dal 2014 e allora mi sono detta caspita io lo yoga non lo conosco molto bene e so che da molta energia mi piacerebbe iniziare a praticarlo praticarlo come tanti altri sport che normalmente non si fanno durante l'anno ma quando arriva l'estate c'è il boom vuoi perché siamo all'aria aperta vuoi perché magari abbiamo più tempo per farlo e allora mi sono chiesto nella diretta di martedì mattina alle ore 9 mi piacerebbe un po parlare con voi e sapere quali sport magari non fate durante l'anno e che invece d'estate decidete così di buttarvi quindi magari quello che fate in montagna piuttosto che al mare normalmente che ne so al surf piuttosto che un corso di vela piuttosto che subacqua piuttosto che tennis piuttosto che equitazione insomma se avete voglia di raccontarmelo io vi aspetto domani mattina come sempre alle 9 puntuali naturalmente il tutto con della buona e sana musica un abbraccio io adesso torno intanto mi informo e poi vedo di fare un po di yoga qui